Questa sera si conclude la prima giornata ufficiale di campo qui sul versante calabrese dello stretto di Messina. La mattina è iniziata abbastanza bene, nonostante il forte vento da sud-est, quindi il forte vento di Scirocco, abbiamo visto alcuni rapaci in migrazione. Siamo andati a Bagnara, che si trova in un posto qui un po' più a sud di Scilla, abbiamo visto dei pecchiaioli, un bellissimo falco della regina. Niente più poi perché il vento è rinforzato e la migrazione si è fermata, tant'è vero che anche chiamato le nostre postazioni che si trovano nelle isole intorno alla Sicilia, Pantelleria, Ustica, che mi hanno confermato che sul canale di Sicilia c'è un fortissimo vento di Scirocco e quindi c'è uno stop totale della migrazione. In modo particolare dei rapaci e quindi di questi grandi uccelli veleggiatori. Anche sul versante siciliano dello stretto dove ci sono delle nostre persone in osservazione, mi hanno confermato che oggi non hanno osservato praticamente nulla.